Una nuova commedia, una nuova performance. Sì, è Brigitta, dammi un bacino. È la nuova commedia scritta dalla Roberta. Saremo alle Poggiola, a Ferro Corso Poggiolino, sabato alle 21.30. Molto emozionati, con quattro esordienti per la prima volta sul palco. Una nuova avventura che comincia, ma noi come sempre saremo alla grande. Questa volta che ti sei inventata, la trama? Questa volta è un bar. Gente che va, gente che viene, anche lì ti immagini. Però a me mi è piaciuto fare una cosa. Siccome nella vita le donne spesso sono vittime di mariti un po' violenti, io qui ho voluto ribaltare, ho perbacco. La violenza mai, né in un verso né in un'altra, ma in una commedia si può fare.